Due punti di penalizzazione e 70.000 euro di ammenda al Napoli, sei mesi di squalifica a Paolo Cannavaro e a Gianluca Grava, tre anni e tre mesi all'ex sportire Matteo Gianello. Queste le decisioni della Commissione Disciplinare della FIGC nell'ambito del processo calcio scommesse per Sampdoria-Napoli. La punizione è inflitta alla società di De Laurentiis per responsabilità oggettiva riguardo all'ilecito sportivo commesso da Gianello. Quest'ultimo è reo di aver tentato di alterare il risultato del match disputato il 16 maggio del 2010 che poi fu perso dal club partenopeo per una rete a zero. Secondo la Disciplinare è riconosciuta l'attenibilità di Gianello e deve ritenersi accertato anche il coinvolgimento dei giocatori Grava e Cannavaro in quanto non denunciarono il fatto. I due punti sono stati imposti per parcondicio nei confronti di Torino e Sampdoria che hanno subito la stessa penalizzazione. Per garantire una uniformità di giudizio ed una situazione di parcondicio tra squadre partecipanti allo stesso campionato attualmente in corso, quindi appare corretta la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente a stagione sportiva. Queste le motivazioni della Commissione Disciplinare rispetto dei punti di penalizzazione inflitti al Napoli. Il principio della responsabilità oggettiva, pur se negli ultimi tempi ha subito una serie di attenuazioni in via applicativa, continua a fondarsi su criteri inderogabili. commentano i giudici di primo grado. In proposito va ricordato come questa Commissione in tutti gli analoghi e recenti procedimenti nel caso di responsabilità oggettiva per il legito sportivo, connesso a calciatori e tesserati, sia partita da una sanzione base di due punti di penalizzazione in classifica generale, oltre che a un'ammenda. Le decisioni della Commissione Disciplinare comunque potranno essere impugnate dalle parti davanti alle Corte di Giustizia Federale.